Sono 63,6 i milioni di euro destinati alla Puglia dallo schema di decreto di riparto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'acquisto di treni ad alimentazione elettrica o a idrogeno. Il Ministero ha complessivamente stanziato 700 milioni di euro, di cui 139,3 destinati a convoglie ad alimentazione e ad idrogeno, 525 per treni ad alimentazione elettrica per il potenziamento del parco rotabile del Servizio Pubblico Regionale Ferroviario. L'investimento assegnato alle regioni del sud è pari a 262,5 milioni di euro, che consentiranno l'acquisto di 32 treni elettrici a idrogeno, nello specifico 6 per l'Abruzzo, 2 per la Basilicata, 7 per la Campania, 5 per il Molise e 2 per la Sardegna, 4 per la Sicilia, mentre in Puglia saranno investiti 27,4 milioni per l'acquisto di due convoglie a idrogeno e 36,2 per il potenziamento del parco rotabile per il Servizio Pubblico Regionale Ferroviario con 6 nuovi treni.